Su fratelli, su compagnie, su venite in fitta schiera, su una libera bandiera, splende il sol dell'avenì. Nelle pene e nell'insulto ci svingemmo in muto patto, la gran casa del riscatto, nion di noi poi... Essi avevano il cuore gonfio di speranza e stretto dal timore, per questo anche i più temperati e senza che se ne accorgessero, il cuore batteva in fretta, come a un autore la sera della prima o a una ragazza innamorata. Non era gente capace di simulazione, bastava osservarli come si avvicinavano, per capire le loro intenzioni. Gli impresari erano ad aspettarli, cotè stasera, e dal modo con cui li accoglievano e li guardavano, anche senza aprir bocca, sembrava gli dicessero «abbiamo perduto dodici giorni, questo ritardo sui lavori ci porterà un danno di qualche migliaio di lire, in compenso abbiamo risparmiato di farle paghe, ora torniamo a casa e troviamo la tavola apparecchiata. Noi siamo nelle condizioni di poter aspettare, e voi altri? A casa voi altri stasera cosa trovate?» Badolati, lui stava sulla porta della direzione, fra i suoi tre scudieri, con il cappello tirato indietro e la giacca dal pagà che gli andava larga e lunga come la cacciatora d'inverno. Di mezzo alle labbra gli pendeva spenta la cica di Toscano. Il nipote assistente finiva una spagnoletta e ne cavava un'altra dall'astuccio. Crispi era lesto a porgergli lo zolfino. «Ve, le faine», disse il decano. Tuttavia i muratori non temevano né il suo atteggiamento, né i suoi sguardi, né la provocazione che restava sottointesa. Ma se stessi, il compagno che gli era vicino, il proprio cuore e il suo, che a un certo momento poteva saltargli in gola e deciderli tanto alla capitolazione quanto a un gesto sconsiderato. Mentre il padrone scrutava loro, essi si scrutavano l'un l'altro, come difidando e incoraggiandosi e tenendosi a bada. Era il loro modo di ritrovarsi concordi e solidali. Del buono li avrebbe rincuorati, ma egli non poteva avvicinarsi ai cantieri. La legge glielo proibiva. Solo che fosse apparso, gli impresari avrebbero potuto farlo arrestare. D'altronde, essi pensavano, se c'è una possibilità, Salani saprà sfruttarla, senza forzare la situazione. Anche lui è un capo di famiglia, Cipressino. Essi non avevano molta fantasia, ma se fossero riusciti a spingersi, a spiegarsi cos'era che si aspettavano, avrebbero dovuto rispondersi che per prima cosa si aspettavano di vedere Crispi o Nardini mettere fuori la cassetta e l'ingegnere incominciare a farle paghe. Questi bestemmiatori segretamente confidavano nel miracolo. Era sabato sera e tornare a casa una seconda volta senza il salario gli pareva innaturale dal momento che il lavoro esisteva. Era lì, i muri non chiedevano che di essere prolungati e gli infissi messi in opera, le pareti decorate. Il senso della responsabilità li opprimeva e, come il calabrone che adesso ronzava in mezzo a loro, un pensiero importuno gli ballava nel cervello. Dovevano richiamarsi alla mente una per una le ragioni per cui erano scesi in sciopero e che quello stesso mattino a Monte Rivecchi si erano ripetuti. Ma Cotesto Pensiero non li abbandonava. Se avessimo lavorato ora si farebbero le paghe e per poco e insufficiente che fosse stato avrebbero riscosso un salario. Non sarebbero tornati a casa a mani vuote. E' faino, eh? Il piccolo Renzoni aveva acchiappato il calabrone che gli girava intorno al viso. Si avvicinò il pugno all'orecchio per udirne il ronzio e invece di tirar fuori la cassettina delle paghe a un cenno dell'ingegnere Crispi mise il lucchetto alla porta della direzione. Essi stavano in fila sotto la massicciata in silenzio. Ora. L'ingegnere seguito dal nipote se ne andò come ignorandoli, rasente il cantiere. Il cielo era tutto rosso e sulla strada afferrata c'era una locomotiva che faceva manovra. Renzoni piccolo ripose in tasca al fazzoletto in cui aveva avvolto il calabrone e mentre l'ingegnere passò loro dinanzi i muratori guardarono metterlo. Durò qualche minuto il tempo che l'ingegnere impiegò per raggiungere l'angolo di via Vittorio e non di meno fu una tensione uno spasimo comuni che attraverso cotesti sguardi vennero a confluire su Metello e lo turbarono. Egli comprese che se avesse richiamato l'ingegnere per annunciargli la loro capitolazione nessuno dei suoi compagni lo avrebbe sconfessato. Comunque tutti gli sarebbero stati segretamente riconoscenti e si sentì solo con pochi isolati solidali dietro di sé non Olindo. Certo che poteva esortarlo a un perdono non Lippi che lo guardava come per ricordargli di non essersi voluto già dapprima caricare la coscienza di questo peso e non Aminta esaltato dall'ire pronto a raccogliere un sasso e scagliarlo o scagliarsi egli stesso contro l'ingegnere non il tedesco infine nemmeno Buttori si tolse i di bocca il filo d'erba d'avena e di nuovo tornò a masticarlo fece un cenno da senso che era un invito a prendere una decisione più che la conferma di un proposito alzò le sopracciglia e per un momento dondolò il suo grosso corpo sul tallone forse erano interamente con lui il piccolo Renzoni che lo fissò con i suoi occhi chiari la mano nella tasca a trattenere il calabrone e qualche altro degli oscuri compagni che meno egli teneva in conto di amici e che adesso sembravano chiedergli di sostenerli mostrandosi mostrandosi sicuro di sé sereno padrone dei propri nervi e della situazione nel giro di quei secondi Mettello incontra lo sguardo di ognuno di loro e uno per uno dietro i loro visi di ciascuno gli balenò la storia ecco c'era Meoni lo si chiamava il Santino era di Pelago era un manovale si sapeva che la domenica andava in chiesa aveva le proprie idee gli era nato un figlio da pochi mesi e gli aveva messo nome Albertario spesso gli diceva anche a te Mettello cosa ti ci vorrebbe per essere un bravo cristiano un po' di buona volontà lo potresti proprio giurare che non credi nell'esistenza di Dio lui gli rispondeva con un motto di spirito a volte con una bestemmia per farlo irritare ma anche per pervincer l'imbarazzo in cui quella domanda lo poneva c'era Leopoldo aveva la sua età poco più soldato di leva l'avevano mandato in Africa e appena sbarcato si era preso uno di quei mali di laggiù andavo di corpo ogni due minuti diceva era stata la sua fortuna della sua compagnia i mori di Bmenedic ne avevano fatto schiacciata era tutto quello che si riusciva di fargli dire pronto a entrare in una discussione su ogni altro argomento su questo che lo riguardava ne parlava malvolentieri come non parlava mai di casa si sapeva che gli era morta la moglie l'inverno prima di che i medici sembra dicessero le è venuto a mancare il cuore non c'è altra spiegazione e gli aveva lasciato tre figlioli il più grande di quattro anni glieli badava la cognata che all'epoca della disgrazia stava per sposarsi e aveva ritirato la parola della sua avventura ad Africa ecco tutt'al più aggiungeva ci avevo tanti amici nella mia compagnia poveri ragazzi e povero anche il colonnello De Cristoforis un babbo un santo ma che del buono gli poteva stare a pari ce n'è di gente per bene anche nell'esercito e come tra Leopoldo e il Santino vedeva Friani era del galluzzo e un buon muratore ormai Metello se lo ricordava aiuto manovale nella squadra di suo suocero quando costruivano a Romito di anzi di ritorno da Monte Rivecchi si erano trovati vicini e Metello gli aveva chiesto fosse vivo mio suocero Friani che ci direbbe che siamo reati ma non che facciamo male no di certo sarebbe qui con noi ma non ci approverebbe o chi era tuo suocero Metello gli aveva chiesto il piccolo Renzoni come la pensava la pensava da anarchico la pensava bene gli aveva risposto Friani e siccome Metello continuava a guardarlo Friani gli aveva detto io sono rimasto di quelle idee non lo sapevi e poi Duili era il sesto alla sua destra nella fila così schierata di già anziano sulla cinquantina c'era qualcosa di romantico nella sua vita dopo il settante era andato a Roma come tanti altri perché là c'era lavoro come c'era stato in Firenze capitale e la fidanzata stanca ad aspettarlo un anno due si era sposata con un verniciatore Duili era tornato apposta e come un siciliano l'aveva assalita a coltellate ferendola appena tuttavia contro le sue intenzioni sei anni di prigione la vigilanza e in seguito non si era più mosso scapolo e come se lei non fosse mai esistita se la incontrava vedendola di lontano cambiava marciapiede erano passati vent'anni lei era vedova da poco vestita di nero lui la fermò viveva sola coi tre figli minori Duili ci andò ad abitare insieme era diventata la sua famiglia i ragazzi lo chiamavano babbo ma non l'aveva voluta sposare dieci trenta tanti quanti erano di ciascuno mettello poteva immaginare il ritorno alle case quella sera il secondo sabato senza portare niente di salario e si avvide che tutti nessuno escluso inconsciamente magari gli chiedevano di assumersi da solo la responsabilità di continuare lo sciopero poi essi avrebbero condiviso cotesta responsabilità ma perché lui col suo atteggiamento ve li avrebbe costretti tutti coloro che conosceva di cui era amico e gli altri dei quali pur lavorando insieme nello stesso cantiere sapeva poco più del nome la maggior parte veniva dalla campagna erano di Scandicci del Galluzzo di Bagno a Ripoli e delle tavarnuzze di Dicomano dell'improneta si parla di politica di donne e dei figlioli ci offrono e si paga una mescita ci si arrampica sui ponti con lo stesso pericolo e lo stesso sudore a metterle in palcature a tirar sui muri a intonacare a stuccare a imbiancare si sta in fila al giorno della paga si bestemmia che non ci basteranno cotesti soldi fino al martedì ed un tratto c'è da averne paura ecco il nono della fila incominciando la mancina chi è? come si chiama? Pomero si è di Fiesole ha alzato anche lui la mano due domeniche orsoni in riva al terzolle e da casa stasera troverà cinque ragazzi a scala come i diti della mano ci guarda ed è un po' anche il suo immediato destino che si decide per un lungo istante Metello fu tentato di rifiutarsi a questo impegno egli era uno dei pochi che rispetto alla generale povertà all'indigenza in certi casi poteva dirsi un privilegiato aveva a carico una piccola famigliola Ersilia guadagnava anche essa qualche cosa forse per questo egli non dubitava del buono medesimo che al di sopra di lui li dirigeva con che diritto dirigeva bastiano era bravo disinteressato un angelo rosso l'angelo sensale viveva con nulla voleva il loro bene tuttavia che ne sapeva della loro fatica del loro ritorno a casa a mani vuote e corsiero e Giannotto si chiese come si comporteranno negli altri cantieri questo lo decise nel momento in cui stava per richiamare l'ingegnere ormai già in fondo alla strada il pensiero che per colpa sua per via di quelli dibadolati la compattezza dello sciopero sarebbe potuta venire meno lo risolse a mantenere l'impegno ad assumersi la responsabilità che quegli sguardi parevano avidi di rimettergli il fiato che gli si era spento in gola tornò a liberarsi in un ampio respiro figlioli disse è più dura di quel che si credeva d'un tratto Aminta che gli era accanto raccolse una pietra e fece per staccare la corsa e aggredire alle spalle badolati Metello la ferrò per un braccio e con ferocia mentre i compagni si raccoglievano attorno glielo storse Aminta si piegò sui ginocchi bestemmiando e lentamente sotto la stretta dischiuse la mano il sasso ruzzolò contro la massicciata Renzoni piccolo gridò attenti l'ingegnere ha cambiato idea badolati era a pochi metri da loro il nipote sempre a suo fianco e vedendo il padrone tornare sui propri passi anche Chris Pienardini che avevano assistito alla scena si erano fatti avanti i muratori si disposero a semicerchio con Metello al centro tra Aminta e Lippi che succhiava il cannuccio della pipa che disse sentiamo ora su l'ingegnere era furente tuttavia quando parlò si poté intuire una balanzosa speranza nella sua voce il suo tono brusco perentorio era come velato da una paterna condiscendenza non sentiamo voglio sapere voglio sapere sapere perché vi picchiate nessuno si picchia gli rispose Metello ti ho visto Donnini mi voleva parlare e tu gli sei saltato addosso e come Donnini chissà quanti hanno intenzione di tornare al lavoro se cerchi di impedirglielo commetti un reato lo dovresti sapere ti ho protetto per degli anni dalla questura ma questa volta non ci penserò due volte a denunciarti proprio io così dicendo fissava Aminta e gli altri più che Metello a cui erano rivolte le sue parole e contrariamente a quanto si attendeva incontrava visi ostili o stupiti e allora Donnini Aminta stava a capo basso si schiacciava le mani una nell'altra non mi faccia domande mugolò piuttosto che rispondere Aminta si è sentito male perciò è cascato disse Metello e perché si sarebbe sentito male ma intervenne Crispi la verità signore ingegnere gliela dico io d'improvviso più inatteso che se fosse riapparso il sole sul cielo ormai scuro Lippi il decano gli scagliò contro la sua pipa lo colse sulla fronte e nello stesso tempo si inchinò preso una manciata di polvere e da un passo di distanza gliela buttò negli occhi gridando dannato farabutto spia e ancora agitandosi tra le braccia del tedesco che lo trattenevano quasi sollevandolo da terra continuava a imprecare e a sputare contro il caporale questi accecato com'era e dalla polvere e dall'ira aveva cavato la pistola e sicuramente avrebbe sparato se nello stesso istante i soli tra i presenti che si erano mantenuti padroni dei propri nervi Metello e il tedesco da un lato e l'ingegnere dall'altro non gli fossero saltati addosso e non lo avessero disarmato quando l'assistente uscì anche il armato dallo sgabuzzino della direzione comprese che il suo intervento non era più necessario i muratori piuttosto che stringersi avevano come allargato il cerchio al centro del quale accanto a Crispi a Metello al tedesco e all'ingegnere c'era Nardini che prese il suo collega per un braccio e lo condusse fino al bidone dell'acqua quindi gli spinse dentro la testa affinché come disse oltre che lavarsi gli occhi si facesse passare i bollori e rivolto al giovane assistente di Aretta a me gli disse lo riponga con testa arnese e gente presa dalla disperazione non sono degli assassini ora il sole era tramontato era già sera e al delà dei prati il casellante metteva le lanterne lungo il passaggio a livello Metello porse la pistola all'ingegnere offrendogliela dalla parte del calcio sarebbe stata una bella una bella fine settimana disse Badolati mise in tasca la pistola si tolse il cappello si passò il fazzoletto sui capelli dietro il collo e sotto la gola sei una canaglia Salani esclamò proprio perché sei un uomo onesto sei una canaglia come tuo suocero ma almeno lui pensava per sé tu aizzi gli altri invece e non ti accorgi del male che fai a tutti lei mi dà troppa importanza io valgo per uno contro per me solo la verità è che questa gente ha aperto gli occhi lo so disse Badolati e sembrò sospirare ma bisogna che li richiuda e presto ordinò al nipote a Crispi di precederlo in direzione poi disse se anche i vecchi perdono la testa dove si andrà a finire faccio ammenda disse il decano si vede che se 60 anni invece di averli li dimostro soltanto lo consideri un fatto personale del resto dove sto di casa Crispi lo sa Aminta disse anche io sono andato fuori di cervello si sperava che lei fosse disposta a trattare Badolati lo considerò prima di rispondergli e nuovamente si rivolse un po' a tutti come per fargli capire che replicando ad Aminta intendeva parlare singolarmente a ciascuno trattare io forse se dipendesse da me ma non dipende più da me è finito il tempo in cui un imprenditore faceva di testa sua ora c'è l'associazione dei costruttori che decide finché si faceva di testa propria ripete io coi miei dipendenti mi sono sempre inteso molti di voi lo possono testimoniare ma siete stati voi altri che a furia di tirare la corda avete creato questo stato di cose avete voluto rimettere su le leghe ora parlate di sindacato eppure il 98 dovrebbe avervi insegnato che le camere del lavoro si possono chiudere da un giorno all'altro da autorità vi siete spellati le mani pergiolitti che vi ha permesso di riaprirle illusi agendo così siete riusciti soltanto a farci credere nell'associazione e quella nessun governo la potrà mai chiudere è il sindacato dei padroni ve lo spiega del buono queste cose si passò ancora il fazzoletto sulle labbra e continuò lavoro non manca nella vostra categoria non esiste un disoccupato siete voi altri che vi mettete in condizioni di diventare dei disoccupati tornate al lavoro e vedremo se col tempo si potrà fare qualcosa ora subito no non c'è nemmeno da parlarne dopo la prova di forza che avete voluto dare l'associazione non si può inchinare perciò riprendete il lavoro e le cose torneranno come prima più in là mi impegno io di strappare all'associazione un miglioramento dei salari non c'è bisogno per questo di fondare delle lego di scioperare intanto per quello che riguarda qui il cantiere vi do la mia parola che crispi non ci sarà più non che lo licenzi a chi mi vuol bene anche se cede non gli darò mai una pedata gli troverò un'altra sistemazione l'importante è che lunedì non lo ritroverete è tutto quello che posso fare tacque e siccome nessuno gli rispondeva restò un attimo interdetto intendiamoci riprese lo sciopero deve finire su tutta la linea e dappertutto qui come dai tagliuti dai massettani dai fiaschi e via dicendo basterà che un certo numero di voi altri torni nei cantieri anche cinque o dieci per ogni cantiere si riattaccherà a squadre ridotte ma da tutte le parti questa è la nostra condizione qualcuno che dia l'esempio e che dimostri di avere il senso della responsabilità non dovrebbe mancare me lo auguro soprattutto per le vostre famiglie gli altri gli oltransisti verranno da sé e più tardi verranno peggio si troveranno levatevi grillidi per il capo ragazzi vi parlo come un fratello non vi fate montare la testa ci monta ma la fame aminta borbottò e lippi disse la fame la bile e qualche altra cosa badolati finse di non aver udito cotesti commenti e il brusio di approvazione che ne seguì troncò la parola sulle labbra di metello ora mi sembra tutto chiaro concluse vi saluto e si diresse verso la direzione dove era stato acceso l'acetilene e si vedeva Nardini sulla porta l'assistente che fumava nell'interno di spalle al finestrino e Crispi che accarezzava Balcani al di sopra di loro alta quattro piani contro il cielo su cui apparivano le prime stelle e occhieggiava metà della luna si innalzava coperta dalle impalcature la fabbrica in costruzione è tanto chiaro che si è fatto buio disse il decano il tedesco masticava il suo eterno filo d'erba di avena e disse se l'ingegnere abbia ancora a questo modo significa che possiamo sempre sperare ma noi badiamo di non tirare la corda più del naturale non ci non ci se ne dovesse mai pentire Metello era contento di sé soggiacendo anche a quel tanto di vanità che il siglio gli aveva rimproverato fin dalla prima sera che ci aveva potuto parlare di persona disse mi sono comportato bene siete d'accordo su come ho agito ottenne l'approvazione che metteva a posto la sua coscienza e che non fu esaltante nemmeno lui se l'aspettava gli bastava trovare ora in quei visi uno specchio delle sue parole tireremo la corda finché sarà il caso rispose al tedesco come dicesti tu non c'è nulla di cambiato aggiunse domani gli operai delle officine verseranno le collette che hanno fatto nel corso della settimana cercheremo di dividere il meglio possibile tra chi ne ha più bisogno ci penserà del buono anch'io gridò il piccolo renzoni col calabrone morto soffocato dentro la tasca e come credendosi dimenticato anch'io ne ho bisogno poi abbassando il tono della voce quando è sabato il nonno aspetta me per comperarsi da fumare un po'